L'azienda sanitaria del Veneziano ha registrato un incremento delle sue attività anche durante i mesi estivi. I dati del controllo di gestione mostrano che i ricoveri nel mese di luglio 2024 sono aumentati del 9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'attività chirurgica complessiva ha visto un incremento del 13%, mentre quella di specialistica ambulatoriale è cresciuta del 5%. In questo periodo estivo abbiamo un aumento di circa l'11% dei nostri pronti soccorsi. Legato al caldo? Incide ma non necessariamente, cioè la causa non è spiegata dal caldo. Circa il 30% dei nostri accessi sono over 65, lo sono adesso come lo erano anche nei periodi non estivi. L'aumento riguarda un po' tutte le classi di età e riguarda anche e soprattutto il fatto che abbiamo un numero rilevante di turisti. Questo aumento è avvenuto in un contesto di caldo estremo e prolungato che ha portato persino ad un boom degli accessi notturni al pronto soccorso. Pensate che a Chioggia c'è un aumento del 60% degli accessi notturni e a Venezia del 40%. Ovviamente i picchi di crescita dei nostri pronti soccorsi sono principalmente Venezia e Chioggia. Anche Mestre sta registrando un aumento di attività al pronto soccorso. L'Asla 3 continua a dimostrare la sua capacità di rispondere efficacemente alle esigenze sanitarie della popolazione mantenendo alti standard di servizio anche in periodi di maggiore affluenza. Il nostro territorio risente delle proprie caratteristiche. Ci sono luoghi che sono ambiti per le ferie dei cittadini di tutto il mondo e questo porta a un afflusso maggiore della popolazione e durante l'estate uno magari corre un po' di più o si affatica, sente il caldo e quindi noi dobbiamo essere pronti a ricevere tutti quelli che sono dei bisogni sia ordinari che eccezionali.